Con questo video voglio rispondere ad alcuni di voi, ed alcune di voi, che mi hanno scritto e mi hanno domandato come poter fare a scaldare o a raffreddare un colore. Ebbene, noi prenderemo in esame quattro colori, che sono il blu cobalto, il blu oltremare, il giallo di cadmio limone e il giallo di cadmio. Vogliamo vedere come fare a costruire con questi quattro colori quattro verdi diversi e come fare a scaldarli e a raffreddarli. Ovviamente io non posso parlare in questo video di tutte le tinte, mi limiterò a parlare di questi verdi e spero che questo sia gradito a voi e il video possa risultare utile e informativo. Vi ricordo anche che l'autunno si sta avvicinando e io sto pian piano preparando quello che avevo in mente e che ho presentato nella mia live. Naturalmente lo spazio che creerò sul canale sarà uno spazio particolare, non sarà un vero e proprio corso ma uno spazio dove all'interno di esso possiamo approfondire determinati argomenti. Naturalmente questi argomenti possono anche essere in successione e possono essere anche scanditi come vere e proprie lezioni. Quindi un corso, chiamatelo un approfondimento sulla pittura e un approfondimento sul disegno. Comunque adesso concentriamoci su questo video e vi auguro a tutti e a tutte una buona visione, non prima di avervi chiesto di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video e di condividere i video sui vostri profili social. E quindi una rivederci a presto e ancora buona visione a tutte e a tutti. Qua abbiamo quattro differenti combinazioni. Ovviamente due sono le tonalità di blu e due sono le tonalità di giallo, ovvero i pigmenti di giallo che andremo a usare. Quindi abbiamo blu oltremare con giallo di cadmio, blu cobalto con giallo di cadmio limone, blu oltremare con giallo di cadmio limone e blu cobalto con giallo di cadmio. Vediamo adesso, unendo questi due colori in combinazioni diverse, che tipo di verdi andiamo ad ottenere. Vediamo che il verde, ovviamente la mescola fra il verde, il blu oltremare e il giallo di cadmio, vede una netta preponderanza proprio per una pennellata molto molto compatta e il colore risulta molto coprente. Il blu oltremare non è un colore molto coprente, infatti è semicoprente, ma l'azione del giallo di cadmio lo rende molto molto solido e vedete che viene fuori questo verde che abbiamo ottenuto adesso. Adesso andiamo a ottenere con un altro pennello la risultanza invece della della tinta fra il blu cobalto e il giallo di cadmio limone. Ed ecco qui, ne ho messo un po' perché vorrei proprio sentire il proprio il corpo del colore e in questo momento vedo che il verde naturalmente sotto l'azione del giallo di cadmio limone risulta un poco più brillante, anzi molto più brillante della combinazione precedente. Eccolo qui e questa è la risultanza. Ne faccio un po' di più perché poi mi servirà per andare a vedere come potremo rendere questo ancora più caldo o potremo renderlo più freddo. Vedete in questo caso il blu il blu oltre mare ha una grandissima preponderanza rispetto al giallo di cadmio limone. Vedete come il verde è più carico e il giallo viene a mente, viene praticamente soccombe di fronte alla potenza di coloritura di questo blu. E adesso ultimi sono il blu di cobalto insieme al giallo di cadmio. Guardate, la copertura, la qualità, la capacità di copertura di questo colore dà veramente, la sentite proprio col pennello. È una copertura, è una proprio pennellata che è quasi faticosa, ma piacevolmente faticosa perché rende l'idea, e lo dico proprio perché voi lo possiate provare, rende l'idea del corpo che hanno questi colori. Dove qui si andava molto in maniera molto fluida, anche qui e anche qui via per il giallo limone e via per il blu altremare, qui la combinazione tra cadmio e blu cobalto dà un risultato veramente molto molto corposo. Ed ecco queste sono le quattro tonalità di verde che abbiamo ottenuto da queste combinazioni, dalle combinazioni che hanno dato questi quattro colori. Naturalmente, noi abbiamo questi quattro pennelli con cui abbiamo lavorato questi quattro colori, vedete? Quindi noi andiamo a usare questo pennello e a portare un poco di questa tonalità di fianco per aggiungere ad essa un poco di blu oltremare e vediamo quello che accade. Eccolo qui e io lo posso aggiungere. Aggiungendo questo colore io l'ho scurito. Vedete che ho chiaramente scurito la tonalità, però non ho una contezza della sua freddezza o del suo calore finché non ho provato ad unirlo al bianco di titanio. Comunque vedete che il colore si è un poco raffreddato. Adesso vediamo lo stesso colore, questo colore raffreddato, come interagisce col bianco di titanio. Ecco io non ho fatto altro che riportare questo colore qui e vediamo con il bianco di titanio cosa riusciamo ad ottenere. Chiaramente il bianco di titanio ha una sua particolarità che o tende a opacizzare i colori che però possono essere risollevati dando un poco di nuovo di oltremare o di giallo a secondo della necessità. Ecco vedete già questo verde come si è raffreddato solo mettendo un poco di bianco e un poco più di blu oltremare. vedete fino a che noi non abbiamo la possibilità proprio di vedere come è la sua parte più chiara ancora. Quindi mettiamo del bianco di titanio in questa tinta e la vediamo proprio schiarirsi e raffreddarsi in maniera veramente decisa. Poi possiamo anche farlo con altri tinte e con altri pigmenti però io mi focalizzerei solo su questi in modo da non creare molta confusione e da non mettere molta carne al fuoco. Ecco qui. Questo è un colore che ha questo tipo di tinta e di temperatura e basta semplicemente fare ancora usare ancora il bianco di cobalto e il bianco di titanio per renderlo ancora ancora più freddo. Invece questo che ha come come mescalatura il blu di cobalto con il giallo di cadmio limone vediamo come riuscire a raffreddarlo chiaramente insistendo sul blu cobalto però il blu cobalto ha una particolarità quella di essere un blu molto caldo. Ed ecco invece adesso abbiamo preso il blu di cobalto e lo abbiamo aggiunto a questa mescolanza che era quella tra blu di cobalto e giallo di cadmio limone. Vedete come questa a differenza della tonalità in cui era prevalente il giallo di cadmio risulti molto più fredda. Se noi lo andiamo a riportare qui e riuniamo il bianco di titanio lo vediamo in maniera molto decisa. Ecco qui adesso prendiamo un poco il bianco di titanio e vedrete che come riesce veramente a raffreddarsi questo colore perché la prevalenza di giallo di cadmio limone determina come vedete la freddezza la maggiore freddezza di questa tinta che in sostanza noi abbiamo visto in questi due esempi quanto il giallo sia fondamentale. Anche in blu è importante sia per soprattutto per la sua corposità ma il giallo riesce veramente a determinare una grandissima freddezza nella tinta. Adesso se noi mettiamo qua un poco di questa risultanza chiara della mescola fra bianco di titanio giallo di cadmio limone e blu cobalto aggiungendoci ancora del bianco e veramente avremo una tonalità molto molto fredda che sfiora le tinte dell'azzurro. Quindi qua abbiamo una temperatura abbiamo cercato di ottenere una temperatura più fredda utilizzando solo due toni che sono quelli con cui abbiamo adoperato per formare il colore più il bianco di titanio. Adesso facciamo la stessa operazione con questo che sono i due colori diciamo più 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 fluidi che ci sono che sono il blu oltremare e il giallo di cadmio limone. Portiamo qui questa tinta portiamo qui questa tinta e portiamo ancora più blu oltremare abbiamo detto perché è la tonalità con cui è formato questo questo colore e ci serve per creare per dare un tono più freddo al verde ovviamente lo potete usare anche per dare il tono di scuro al verde stesso quando avete un verde che è composto da blu oltremare e da giallo di cadmio limone come in questo caso se utilizzate il blu oltremare ecco che potete benissimo ottenere uno scuro senza arrivare a usare o i neri o i bruni. Ma adesso riportiamo questo colore che noi abbiamo trovato e lo uniamo con il bianco di titanio vediamo il grado di freddezza a cui possiamo arrivare. Ed eccolo qui questo qui è ancora una tono diverso ancora un tono diverso di colore che riesce ad essere a spegnersi ad essere più freddo. Se noi poi lo collochiamo qui e insistiamo ancora sul bianco abbiamo questo tipo di risultanza. ce ne vuole un pochino di più perché proprio la colorazione del blu il blu il blu oltremare è molto colorante ha una capacità molto colorante però vedete che riesce a essere a essere freddo e quindi riusciamo a ottenere questo tipo di nuance. E adesso proviamo con i colori che sono più potenti che sono il giallo di cadmio e il blu cobalto. Andiamo naturalmente a posizionarci qui e insistiamo con il blu cobalto perché ovviamente noi vogliamo andare verso la parte fredda. Prendiamo il blu cobalto e andiamo a sistemarlo qui. Anche questo naturalmente si può usare benissimo come parte scura per quanto riguarda questo tono, perché la sua composizione comporta il legame con un colore che fa parte di questa mescola di pigmento. Adesso vediamo questo come agisce quando noi lo mescoliamo al bianco di titanio. Ecco qua. Prendiamo questo bianco di titanio qui e lo andiamo a mettere, ecco, vedete? In questo caso noi otteniamo un verde che è molto più caldo di quanto non siano questo e questo, perché proprio la preponderanza del giallo di cadmio ha una grande, talmente una potenza molto molto forte per cui determina proprio il calore del verde. Allora proviamo un po' a insistere con il bianco e vediamo proprio che il giallo viene ancora fuori. Allora non ci resta che fare una cosa, aumentare l'azzurro di cobalto e aumentare il bianco. solo in questo modo possiamo renderlo più freddo. E adesso occupiamoci dell'altra parte, cioè di come scaldarli ulteriormente. Ora andiamo a occuparci della prima mescola di questo pigmento. Vi ricordate noi abbiamo ottenuto questa tinta mescolando il blu oltremare con il giallo di cadmio. Quindi noi cosa facciamo? Non facciamo altro che aumentare il giallo di cadmio. Quindi prendiamo questo colore, che è molto molto coprente, e lo riportiamo qui. sentite col pennello come queste due risultanti, come soprattutto il giallo di cadmio sia molto molto corposo e molto coprente. Io non utilizzo in questo caso il diluente, perché il diluente altererebbe il risultato della mia sostanziale ricerca sul colore. Quindi ho bisogno di farlo in maniera pura. Poi io quando vado a dipingere posso anche diluirlo, però qua devo cercare di capire. E allora per capire io devo usare i pigmenti nella maniera pura. Ed ecco, vedete qua il giallo, diciamo questo verde, che viene più giallastro. Ok? Ovviamente io posso scaldare ulteriormente questo giallo, in questo modo, mettendo una punta di blu di cobalto, perché io qua ne ho messa poca, ahimè. Quindi devo assolutamente rinforzarla, scusate blu oltremare, perché devo rinforzarla un pochettino con questo, per fare diventare ciò uguale al pigmento che ho qua di fianco. E io qua, io cosa faccio? Io metterò, posso avere la possibilità di mettere questi due colori. Ho della lacca di garanza, in cui veramente vado a scaldare il colore nella sua tonalità più vicina alle tinte rossastre. Vedete? Aggiungendo anche un altro po' di giallo di cadmio. Ecco, io tengo veramente questo verde interessante, che proprio quasi va a sostituirsi, va verso le tonalità gialle, propriamente gialle. Ovviamente se questo non è, non mi piace e lo voglio rendere ancora più simile, vicino alle tinte verdi, non faccio altro che aggiungere del verde. E naturalmente io poi prendo questo colore e lo mescolo al bianco di titanio. Se lo mescolo al bianco di titanio, io otterrò questa tinta, che vedete, è naturalmente più chiara, però notevolmente più calda di quanto potrà essere quella, perché io vado ad aggiungere del blu, vado ancora ad aggiungere del giallo, ancora in maniera più importante, perché volevo creare un pochino più di colore in questi, in questo, in questo tassello, per riuscire a farvi vedere meglio. E poi ovviamente, insisto, con la con la lacca di garanza. Ottengo veramente questo tono di verde molto molto caldo. Poi posso anche scaldarlo ulteriormente, lo scaldo ulteriormente usando il l'ocra giallo. Quindi prendo l'ocra giallo e scaldo ulteriormente questo colore. L'ocra giallo è molto molto semitrasparente, quindi mi dà la possibilità di avere questo tipo di nuance ancora più fluide sul colore. E ottengo un colore che è veramente caldo. Se voglio farlo virare un poco sul blu, ecco che questo colore, il risultante di questo colore sarà una tinta di colore la più calda che io possa ottenere con la mescolanza della lacca di garanza, dell'ocra gialla, del blu oltremare e del giallo di cadmio. E qui vado a fare il suo tono più chiaro, aggiungendo del bianco di titanio. Comunque, rispetto ovviamente a tutte le tonalità che noi possiamo scegliere, noi abbiamo già visto, in questa nostra prova che abbiamo fatto, come i gialli ancora una volta siano determinanti e qui fondamentale il ruolo del giallo di cadmio. Adesso andiamo a vedere il giallo di cadmio e limone con una mescola di blu di cobalto. Allora andiamo a prendere questa tonalità, questa tinta che ho preparato qui, che ovviamente è di più di quello che ho preparato sopra, quindi ho più agevolmente la possibilità di metterlo di fianco, in questo modo, e aggiungiamo adesso del blu cobalto, non del blu cobalto, ma del giallo di cadmio e limone. Ecco qui, andiamo a prendere questo giallo di cadmio e limone e lo mettiamo qui. E chiaramente, essendo un giallo di cadmio, benché sia limone, vedete già come tende a essere molto più chiaro rispetto a questo. Se noi insistiamo e vogliamo dargli ancora un maggior calore, noi possiamo fare in questo modo. possiamo unire a questo, come abbiamo fatto qui, della lacca di garanza. E quindi giocare con questi colori, vedete? Prendere ancora del giallo limone e metterlo qui. Naturalmente, noi in questo modo sfioriamo proprio la tonalità aranciata, ma ci basta proprio solo mettere un poco di blu cobalto per riuscire a riportare tutto nella tonalità verde e quindi ad avere questo verde con l'aggiunta del giallo di cadmio e limone, ma molto più caldo. Adesso prendiamo il bianco e lo uniamo e vediamo il risultante. Perché c'è ancora molto sul pennello e quindi lo metto qui. Ancora bianco, eccolo qui. E qui abbiamo proprio un colore molto molto chiaro. Però vedete come si discosta e come è caldo rispetto ovviamente a questo. Se noi, ripeto, vogliamo dare una tonalità più sul verde, non facciamo altro che aumentare la presenza di blu di cobalto. E se vogliamo scaldare ulteriormente dell'ocra gialla. Adesso andiamo a vedere come scaldare questo, che noi vediamo blu oltre mare con il giallo di cadmio, unendo a questo ovviamente la parte di giallo di cadmio. E anche qui vedete come giallo di cadmio, subito, subito scalda il verde. Basta pochissimo per avere veramente una tonalità molto molto calda. Posso dare subito del bianco, in questo modo, perché vedete che la copertura del giallo e il colore che io ho nel pennello è veramente molto importante. E la capacità colorante di queste due tinte lo sono altrettanto. Per cui io mi troverò questa tinta, che come vedete è chiara, però è veramente molto calda rispetto a questa. E quindi non posso fare altro, se voglio renderla ancora più calda, che aggiungere o dell'ocra gialla o della lacca di garanza. E avrò senz'altro una tonalità ancora ancora più calda. Poi naturalmente le tonalità calde e le tonalità fredde dipendono anche da che colori noi andiamo ad unire, andiamo a confrontare, andiamo ad accostare. Ecco, tutto questo che noi facciamo è importante per la determinazione di una tinta calda o fredda. Se io ovviamente metto un complementare vicino ad un altro colore, ad esempio se qua io mettessi dell'arancione, ovviamente questa parte qua diventerebbe più fredda. Se io mettessi invece un colore, un celeste chiaro, eccetera eccetera, questa parte qui mi risulterebbe molto più calda. Adesso noi uniamo per esempio dell'ocra, vedete che ha una grande capacità di coloratura, ma questo andiamo a prendere del blu, oltremare e del giallo. Questi qua sembrano quasi, sembrano tonalità che possono essere simili, però la quantità veramente di nuance è assolutamente strepitosa. E poi naturalmente vediamo, proprio portandolo all'estremo, la possibilità di unirlo alla lacca di garanza, per avere proprio quella tonalità di quel verde autunnale, che è molto interessante, che a volte troviamo nelle foglie. Mettiamo del giallo e mettiamo un tocco di blu cobalto. E poi ancora del bianco. Perché il giallo, la possibilità di giocare con questo colore molto, molto diciamo invadente, ci dà la possibilità veramente di scaldare o di raffreddare il colore come a noi piace, togliendone o aggiungendone. E adesso, infine, guardiamo questa tonalità, che è quella più corposa ed è quella che ha la risultanza più particolare. Vedete, qua non è riuscito neanche a meroscolarsi tutto, che è proprio la risultanza tra i due colori, ne aggiungiamo ancora perché ne vale la pena, che è la risultanza tra i due colori, blu cobalto e giallo di cadmio. Questi colori, per esempio, questo colore qua, giallo di cadmio e blu cobalto, insieme ci mettono veramente quasi, ma in mezza giornata possono anche essere asciutti. E ovviamente più diluente mettete, più la possibilità che si asciughino è minore, naturalmente. Però adesso andiamo a vedere proprio come si comporta questa mescolanza con il giallo di cadmio. Vediamo un po'. E qui abbiamo un verde veramente molto caldo. Non risulta, non è proprio caldissimo come questo, però riesce a essere proprio brillante. Quindi bisogna proprio centellinare, rapportare il blu e il bianco e far sì che proprio esista questo rapporto di bilanciamento, a seconda che noi vogliamo far tendere il colore da una parte o dall'altra. Se mettiamo questa mescola qui, mettiamo del bianco, ancora un po' di più, vedete, otteniamo questo colore molto molto chiaro, questo giallo chiaro e caldo. Che ovviamente tende al verde, quindi un verde proprio chiaro, giallo, intenso. Possiamo scaldarlo e quindi anche magari abbassarlo di tono, però renderlo ancora più caldo, aggiungendo dell'ocra gialla, ad esempio. Come in questo modo. Vedete, oppure, vediamo sempre una mescola così, riproponiamo questo colore, lo ricostruiamo, quindi blu cobalto e giallo di cadmio con del bianco. Poi aggiungiamo ancora un poco di giallo. Lo prendiamo ancora qui. Aggiungiamo un poco di giallo e vediamo come si comporta invece con la lacca di garanza. E abbiamo veramente uno dei gialli chiari più caldi che possiamo ottenere, che tende al verde. Ecco, questo è un po' il quadro della sperimentazione che noi possiamo fare e che dobbiamo fare necessariamente quando noi dobbiamo dare un tono a una foresta e dare un tono ai verdi che la compongono. Quindi sappiamo che le tonalità che noi mischiamo, se vanno verso il caldo, ovviamente la dominanza sarà il colore giallo. Se va invece verso il freddo, la dominanza sarà il colore blu. Chiaramente possiamo arrivare ad usare anche il bianco di titanio oppure anche mescolarlo con altri bruni, ma sempre con una preponderanza di azzurro. Invece qui la preponderanza deve essere un tono giallo per ottenere un calore molto molto intenso.